Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò l'ultima posizione dell'ultimo dungeon segreto, livello segreto in Minecraft Dungeons, nel livello palude umidiccia. Ora, premetto che per sbloccare questo livello ho ripetuto all'infinito il dungeon palude umidiccia, perché non usciva mai. Prima di tutto dovete finire il gioco. E seconda cosa, dovete ripetere il livello talmente tante di quelle volte per far apparire il dungeon, che si trova verso la fine del livello, in prossimità del boss. Il mio consiglio non è quello di finire il livello magari 50 volte, 100 volte, fino a quando non appare, ma di lanciare il livello, dopo che avete finito il gioco naturalmente, e consultare subito la mappa. In basso a sinistra, segreti trovati, come potete vedere, devono essere due. Se sono due i segreti trovati, ignorate i forzieri aperti, ma i segreti trovati se sono due vuol dire che siete nel dungeon giusto. Infatti, se poi alla fine del livello mettete la mappa e avete questa situazione, allora troverete il dungeon segreto. E come potete vedere, qui avete la possibilità di recuperare l'ultima pergamena che vi serve e quindi avere l'accesso all'ultimo dungeon. Dovete superare prima questo combattimento. Ora, ripeto, questo è un livello veramente rompiscatole perché è l'unico livello che il dungeon non sempre esce, anzi a me non esce praticamente mai. È uscita solo questa volta e non so nemmeno come è stato possibile, ma ho tipo finito il livello un cento volte, ho riprovato e riprovato all'infinito, caricato partite su partite, ma non usciva il dungeon. Infatti pensavo che si fosse buggato, sinceramente, però alla fine è uscito. È indifferente la difficoltà, quindi non è che magari dovete per forza fare il dungeon alla massima difficoltà, non importa. Dovete finire il gioco una volta, dovete avviare palude e umidiccia tante di quelle volte fino a quando non avete una situazione del genere. Ossia, segreti trovati, 0 di 2 e la mappa che vi ho mostrato prima. Una volta che avete questa situazione, allora potete finalmente sbloccare il livello segreto, alias dungeon segreto, nella palude umidiccia in Minecraft Dungeons. Quindi se avete seguito poi gli altri tutorial, avrete sbloccato nella mappa tutti i dungeon segreti.